Ti sei iscritto in palestra, ti sei infortunato o te mi possa accadere? Nel video di oggi comprenderemo le tre cause principali degli infortuni in palestra e ti offrirò tre suggerimenti da applicare subito. Ciao, sono Fabio. Sono un personal trainer e alleno uomini e donne che vogliono tornare in forma e hanno poco tempo disponibile, incontrandoli due volte alla settimana per un'ora. La prima causa degli infortuni in palestra è il mancato rispetto della progressione dell'allenamento sulla base della propria condizione atletica. Molte persone decidono di iscriversi in palestra ed entrano a far parte di gruppi già formati per le lezioni di fitness musicale, di crossfit o di allenamento funzionale. Muscoli, articolazioni, tendini non sono pronti a sofferire al carico di lavoro o agli esercizi avanzati. Seconda causa di infortuni, ti reghi in palestra e non effettui il riscaldamento adeguato. Anche in questo caso il corpo non è pronto a sofferire al carico di lavoro previsto nella fase centrale dell'allenamento. Causa numero 3, errore nell'esecuzione degli esercizi. Hai deciso di allenarti senza assistenza o in quel momento l'istruttore di sala è impegnato con un altro iscritto. L'errata esecuzione degli esercizi probabilmente è la maggiore causa di infortuni in palestra. Oggi ti offrirò tre suggerimenti pratici per iscriverti in palestra e limitare il rischio infortunio. Suggerimento numero 1, se desideri praticare una lezione di fitness musicale, prepara il tuo corpo almeno per le prime 8 settimane con un allenamento esclusivo in sala pesi. Suggerimento numero 2, pratica sempre 10 minuti di riscaldamento dal generale allo specifico prima della fase centrale dell'allenamento. Suggerimento numero 3, chiedi sempre la consulenza ad un personal trainer soprattutto nella fase d'avvio della tua attività sportiva. Avere un personal trainer al tuo fianco ti permetterà sin da subito di allenarti in modo corretto, di preparare il tuo corpo all'attività che preferisci e in una seconda fase poterla eseguire in totale sicurezza. Se vivo e lavori a Catania, contattami e prenota una consulenza gratuita e senza impegno alcuno per valutare insieme i tuoi obiettivi. Ciao e al prossimo video!